Mi sento sempre giustamente di dover rispondere a ma perché non te ne sei accorta prima? In realtà è giusta questa domanda, però secondo me sottende sempre, senza la malafede chiaramente, ma sottende sempre che noi donne dobbiamo accorgerci di qualcosa, pensare per noi e per l'altro perché siamo ancora viste come le madri, quindi esseri duali che devono pensare per se stesse ma insomma più che altro per l'altro.